Questo speciale è stato realizzato da conduttori non iscritti all'ordine dei giornalisti. L'agricoltura biologica non è solo un modo per produrre cibi sani, naturali, privi di fertilizzanti chimici o di organismi geneticamente modificati. È anche una scelta culturale di vita in cui la persona e l'ambiente che ci circonda sono protagonisti. Questo tipo di agricoltura ha una lunga tradizione nelle Marche che risale, come vedremo, agli anni 70. Ora si tratta di fare un passo avanti, di costruire un distretto agroalimentare capace di valorizzare le eccellenze dell'agricoltura biologica marchigiana, uno strumento di promozione del territorio che vada incontro alle esigenze degli agricoltori, ma sia anche strumento di promozione turistica, di tutela ambientale e di valorizzazione economica. Se ne è discusso il sabato 24 ottobre nel corso di un convegno organizzato all'interno di Expo Milano 2015 dal Consorzio Marche Biologiche, dalla Regione Marche e dall'Università della Tuscia. L'incontro si è svolto all'interno del Teatro della Terra, la Sala Convegni, nel Parco della Biodiversità, gestito da Bologna Fiere. Il Consorzio è una realtà produttiva, è nata nelle Marche, con la mission principale di aggregare le principali realtà produttive che fanno agricoltura biologica per promuovere la filiera regionale biologica. Siamo nati cinque anni fa, aderiscono al Consorzio circa 300 aziende agricole e cinque cooperative. Quindi il nostro compito è quello di pianificare gli investimenti sia dal punto di vista della promozione ma anche dal punto di vista degli investimenti, soprattutto sostenere le aziende nella innovazione di prodotto e di processo. Crediamo che il distretto possa essere l'occasione molto importante per favorire, per promuovere sia l'aspetto della multifunzionalità che è una caratteristica dell'agricoltura biologica. Cioè fare agricoltura biologica significa sicuramente produrre prodotti di qualità ma anche produrre salute, ambiente, socialità, cultura. E le politiche di distretto ci permettono di ragionare in tal senso. Contemporaneamente il distretto ci consente di sviluppare le cosiddette esternalità positive che l'agricoltura biologica ha sul territorio, nei confronti dell'ambiente, nei confronti della comunità. Il convegno ha ospitato la presentazione di uno studio portato a termine da due docenti dell'Università della Tuscia e il distretto biologico, edito da Franco Angeli. Una ricerca approfondita sul modello marchigiano con l'obiettivo di individuare caratteri e potenzialità di un futuro distretto ad hoc. Secondo me le potenzialità sono molto alte in questo territorio, soprattutto per i possibili sviluppi che si possono avere non solo in chiave di distretto biologico, perché ovviamente è importante ma magari c'è ancora qualche lacuna da un punto di vista normativo, ma siccome il processo dal basso ha funzionato c'è una grossa partecipazione, ormai una storica agricoltura biologica, quindi secondo me le potenzialità sono molto alte e questo territorio andrà avanti da solo. Il distretto di per sé già come termine implica ovviamente un'unione di territori e nel territorio, anche se fortemente connotato dall'agricoltura, in questo caso biologica, non c'è solo l'agricoltura biologica. E quello è proprio qualcosa che dovrebbero sviluppare i territori stessi, quindi quando noi parliamo degli attori locali che devono unirsi, formare questo partenariato e condividere una strategia di sviluppo, è lì la chiave. Le prospettive sono ottime, come credo sia emerso dal convegno di oggi, c'è una grandissima volontà a tutti i livelli, c'è volontà amministrativa, c'è volontà politica, c'è volontà da parte delle amministrazioni e soprattutto c'è volontà da parte degli attori del territorio. Noi come università abbiamo semplicemente cercato di agevolare, di facilitare questo processo sia dando un contributo scientifico sull'inquadramento dei distretti biologici sia poi andando a valutare nei diversi territori quale fosse effettivamente la presenza della produzione della filiera e quindi poi andando effettivamente a circoscrivere quei territori nei quali a nostro avviso ma soprattutto a viso dell'amministrazione e dai produttori ci sono le condizioni per istituire questi soggetti territoriali e in prospettiva per valorizzarli dal punto di vista delle produzioni e anche da altri punti di vista quale quello turistico e dell'immagine collettiva del territorio. La Regione Marche ha spiegato la dirigente del Servizio Agricoltura Cristina Martellini è molto attenta alle sorti dell'agricoltura biologica e intende dare vita a una normativa ad hoc. Questo è dovuto al successo che nelle marche il biologico riscuote il successo che è di mercato ma anche di tradizione adesso siamo a livello di studio, di regolamento ma stiamo contemporaneamente però aspettando anche la proposta di legge nazionale l'intenzione è quella di includere il più possibile tutte le modalità e le metodologie sul distretto biologico, cioè non fermarci al discorso distretto creato top down o bottom up ma cercare di includere tutte le cose che possono servire a fare del distretto uno strumento aggregativo nel territorio. L'agricoltura biologica nelle Marche ha un precursore storico a Isola del Piano nell'esperienza di un gruppo di giovani guidati negli anni 70 da Gino Girolomoni imprenditore lungimirante. Tra loro c'era anche l'attuale sindaco di Isola del Piano, anche egli agricoltore. Le prime esperienze si hanno intorno all'inizio degli anni 70, 72, 73 con Gino Girolomoni e un gruppo di ragazzi di cui io facevo parte che iniziano una ricerca su quali erano le cause che hanno determinato l'esodo. Non avevamo ancora nessuna intenzione di parlare di agricoltura ma lo avevamo solo capire perché la gente aveva lasciato i campi. Alla fine riusciamo a scoprire dopo una ricerca fatta che le motivazioni che noi credevamo essere di ordine economica erano invece di ordine culturale e si pone la domanda cosa faremo noi, rimanere sui campi. Rimanere sui campi voleva dire fare gli agricoltori ma fare gli agricoltori in un modo diverso. Avevamo letto una serie di libri, di riviste eccetera eccetera e scopriamo che in Germania, in Svizzera, è nato un movimento biologico abbiamo preso dei contatti con loro e decidiamo di fare agricoltura biologica. Oggi, spiega il sindaco di Urbino, bisogna crescere insieme agli agricoltori. Che cosa significa lavorare sugli agricoltori e con gli agricoltori? Soprattutto lavorare con gli agricoltori, cioè gli agricoltori sono gli attori principali che prima di capire di quale film parliamo, hanno bisogno di capire. Spesso si trovano gli agricoltori coinvolti in dei processi che non sempre riescono a capire bene. Quindi l'obiettivo nostro principale è quello di far capire all'azienda agricole che sono appunto per me gli attori principali e credo che questa sia una cosa che molti condividono che però forse non si è mai capito a pieno. Oggi è necessario considerare la creazione del distretto del biologico non un punto di arrivo per chi opera nel settore, ma un punto di partenza. Lo ha spiegato Andrea Pollarini, esperto di marketing e docente alla Iulma. Significa che oggi la competizione internazionale si fa sulle parole, sui significati delle parole e sulla capacità di aggregare dei pubblici attorno a questi significati. La storia di Slow Food è esemplare da questo punto di vista. Slow è una parola che ha un significato ma che nella mente di tutti ormai evoca un mondo, un universo, un modo di pensare per l'agricoltura e la gastronomia. Il tema del biologico è lo stesso, deve sapersi appropriare di questi significati e veicolarli e costruire attorno a questi significati dei pubblici sempre più vasti. Però il prodotto ci vuole. Ah certo, il prodotto ci vuole e credo che in questo seminario siano emerse tutte quante le opportunità e le criticità di questo settore. In fondo l'interesse per l'agricoltura biologica rappresenta un modo di recuperare e difendere la natura e riscoprire la bellezza che è dentro la natura. Parola di Vittorio Sgarbi, critico d'arte, assessore alla cultura e agricoltura ad Urbino, protagonista di un applauditissimo intervento fuori programma. Quello che sta capitando qua sia pure con la parola biodiversità, un po' di retorica delle parole. Nostra però ha una tendenza che dopo tanti anni di sciupio, di distruzione, si comincia a capire, e l'ha capito per primo Petrini, che i terreni, i territori, la coltivazione agricola hanno un valore potentemente simbolico e fortemente culturale. Cioè difendi la bellezza d'Italia, non è che lo dici che fai il grattacielo, fai il palazzo Italia. Qui siamo, credo, arrivati al punto di limite in cui si potrebbe cominciare a smettere di fare cose sbagliate e a salvare la natura. A salvare la natura è come salvare un parco, un parco di per sé un luogo di bellezza. Mi pare che, anche se c'è molta retorica, ci sia però un'inclinazione a questa dimensione, quella che dicevo di mia madre. Oggi mia madre non mi impedirebbe di imparare il dialetto, perché il dialetto non è l'incultura, il dialetto è un mondo che ha una sua verità contadina. Questo speciale è stato realizzato da conduttori non iscritti all'ordine dei giornalisti. Grazie.